Ancora una volta ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo survival zombie game online Siamo su Rust E' nuovo Rust, è uscito in sembra l'11 dicembre, il 18 dicembre, no l'11 mi pare Comunque nelle prime settimane di dicembre, quindi è abbastanza recente come gioco E voglio parlarvene un po' e poi voglio sapere da voi se vi fa piacere che io continui a giocarci Potrei giocarci anche insieme ad altre persone Oppure se non vi piace, voglio un po' che mi scriviate nei commenti che cosa ne pensate Intanto inizio, mi do da fare Molti di voi sono sicuro già hanno visto qualcosa di Rust Molti di voi, spero, ci giocano anche, visto che è un bel gioco, me lo auguro Voglio darvi un po' di elementi Ovviamente non potevo mancare nel provarlo perché sono un grande appassionato di questo genere di giochi Nonché dei giochi di sopravvivenza in generale Qui gli zombie ci sono, ci sono gli zombie So che questa domanda è nella mente di molti di voi Ci sono gli zombie però non sono il punto principale di questo gioco Come possono essere invece su DayZ Il punto principale di questo gioco è la sopravvivenza Sopravvivenza un po' intesa come Avete presente, non lo so Immaginate tipo di essere in un'apocalisse post-radiazioni Guerra nucleare, radiazioni, non si può più vivere nelle città Tutti migrano nelle campagne Nelle zone inabitate Quindi nessuno ha nulla praticamente Si nasce con qualche bendaggio, questa pietra gigantesca Che si può usare appunto per raccogliere le risorse Oltre che ovviamente come arma E una torcia per la notte Quindi abbiamo pochissima roba E ci troviamo in un ambiente tipico di campagna Arizona, no? Avete presente? È un po' montagnoso C'è anche del mare Lo scopo è sopravvivere Cioè bisogna cercare di sopravvivere un po' più alla giornata Non è tanto il pericolo degli zombie quanto dei player È proprio morire di fame La difficoltà, il pericolo principale In questo momento mi sono creato un'acetta Ora questa accetta è un po' più schifosa di quella tipica di ferro Che si vede spesso nei video di Rust Però è l'unica che io in questo momento posso fare Ora, il mio desiderio sarebbe cacciare un animale E io desidererei tanto abbassare una di queste renne Quindi io ci provo Ok, non è facile, non è facile Però in teoria In teoria dovrebbe Dovrebbe baggarsi Nel senso che io posso avvicinarmi così pian pianino Vedi, lei non mi vede perché sono molto di soppiatto E poi... E poi... Nel culo Mori Oddio, prendere un'alcia d'accettata nel culo È una delle cose della vita Fa meno danno questa accetta di pietra rispetto a quella di ferro Ovviamente, tra l'altro Oserei aggiungere Fermati Oh! Se ne sta andata la mia preda Dio! Dai, no? Oh! Fermati un pochino Allora, mi avvicino Mi avvicino un po' perché se no, madonna, li a strisciare un quarto d'ora Ok, ora Mi abbasso in modo che non scappi Non scappare Non scappare Rudolf the Red Nose Rendeer Vieni qui, ti faccio il culo Mori Oh, l'ho presa Mori Ok, questa è una cosa parecchio brutta da vedere Però stiamo soltanto raccogliendo risorse dall'interno dell'arena Ora, che cosa ci aspettiamo di trovare dentro un'arena? Ovviamente carne Si chiama tutta carne di pollo Ma in realtà questa non è pollo, ovviamente renna Grasso di animale Che a me sembra più pelle che grasso Comunque diciamo che è grasso E poi, ovviamente, pelle Che qua viene chiamata clot Quindi sarebbe tessuto Comunque in realtà è pelle A che cosa ci servono? Beh, un po' potreste immaginarlo Ora, intanto io vorrei raccogliere un altro pochino di legno Perché il legno fa molto comodo Tra poco vi farò vedere anche un po' come Come utilizzarlo Ok, ne prendo ancora pochino Ok, basta Allora, un altro passo, diciamo Fondamentale nell'inizio della sopravvivenza È, come potreste immaginare Crearsi un fuoco da campo Fuoco da campo che utilizzeremo Per Crearci da mangiare Ora, questo fuoco da campo Noi potremmo piazzarlo già qui E cucinarci del cibo Visto che siamo anche abbastanza affamati E io lo faccio perché Veramente siamo abbastanza affamati Quindi, allora Abbiamo creato questo Ora, non so se mi trovo su un server moddato Non credo Però non capisco perché Non mi richiede del tempo Per creare gli oggetti Nei server dove ho giocato ieri Per creare appunto un oggetto Serviva un tot di tempo Ad esempio 10 secondi 20 secondi Per creare appunto ogni oggetto Ora, non so perché Oh, oh, ho mangiato Merda, sono un coglione Me la sono mangiata cruda Eh, sono avvelenato Oh, cazzo Eh, spero che passi Sono molto confidente che passerà È passata? No Ok, ora è passata Madonna, ho fatto una cazzata Mi dispiano Scusa, personaggio Ok, quindi abbiamo messo a cucinare la carne Perché mangiarla cruda fa molto male Comunque, non so Forse un aggiornamento hanno elimina Sto morendo di fame Sto morendo di fame Oh, oh Eh, eh Eh Eh, non morire di fame per favore Dobbiamo aspettare Dobbiamo aspettare che si cucini L'arena Ma non male che Madonna, è perché È perché l'ho mangiata cruda Mangiarla cruda è terribile Mi ha fatto diventare affamato Nonché anche Eh Avvelenato Quindi mi ha tolto fame Mi ha tolto vita La vita però si sta rigenerando Credo perché siamo vicino al fuoco Quindi siamo al nostro Ah, c'è scritto in basso a destra Se vedete c'è scritto comfort Quindi siamo al nostro comfort Siamo Sti Ah, il calduccio No, avete presente Non lo faccio più questo verso Non vi preoccupa Eh, quindi stiamo bene E ci stiamo rigenerando la vita Ora, io vorrei però Mi piacerebbe tantissimo Non spegnerlo Fammi vedere se è cotto Oh, ha cotto la carne Era madonna C'hai messo anche un quarto d'ora Cioè Dai che dobbiamo mangiare Ah, buona Quindi Nutriamoci Di più Perché ha fame Ancora Ancora vai E una ce la teniamo da parte Ora Eh, avevo visto un'altra renna Però prima Prima di tutto Voglio Un altro po' di legname E utilizzo la mia accetta Dalle capacità sorprendenti Che è fortissima Anche se è di pietre Sembra più che altro Uno stuzzicadenti rudimentale Però va bene La utilizzo un pochino E prendo un pochino di legno Ora vediamo un po' Quanto ne serve Per crearsi la capanna La capanna La capanna Wood shelter Ne serve 50 E noi ne abbiamo 33 34 35 36 Vabbè Qua non ce n'è più Una renna Buona renna Vieni qui Vabbè Prendo anche un po' di legno Nel mentre Intanto Renna tu aspetta Al tuo turno Arriverà presto Ovviamente Lo stile di gioco Su questo gioco È molto più Tipico della sopravvivenza Rispetto a un DayZ Dove Ovviamente Tutte le risorse Si trovano andando in giro Per edifici E luttando appunto Le cose che già si trovano In giro per il mondo Qua Si parte dal presupposto Che di città Non ce ne sono O comunque Ci sono degli accampamenti Delle case Ma sono molto difficili Da trovare Quindi Oh c'è un T Oh oh Che cos' Che è Hello Non vorrei che mi ammazzassero I'm friendly too I don't have anything special Thank you Oh che gentili Mi hanno augurato Buon appetito Perché Perché volevo cacciare L'arena Dov'è l'arena Dov'è 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 Oh che cacchio Oh qua c'è un tizio morto E mi ha lagga Oh merda Mi ha fatto una laggata bestiale Ragazzi Siete ancora voi Siete ancora voi Sì Perché Mi sei frizzato il gioco Per un attimo Non so cosa succede Ho perso anche l'arena Quei tizi molto gentili Mi hanno augurato Buon appetito E sono andati via Ma Eh ma L'arena Oh cristo Verso l'arena Vabbè però abbiamo trovato questa casetta Questa casetta qua È un wood shelter Che qualcun altro ha costruito Ora noi potremmo usarlo Per noi E per fare ciò Basta che noi costruiamo la porta Che è questa La Mio Ho fregato il wood shelter Di qualcuno Ora però vorrei ritrovare La mia arena Mi fa comodo Oh no L'arena Cacchio ragazzi Stavo anche facendo Un discorso interessante Ma mi sono interrotto Stavo dicendo che A differenza di desidio Le cose si trovano bene o male Sempre negli stessi posti Nelle città Su Rust La prima fonte di Di guadagno Di oggetti È appunto la natura Quindi Si possono creare Praticamente tutti gli oggetti del gioco Se si hanno Le dovute conoscenze Quindi non c'è bisogno Di andare a cercarseli già pronti Basta trovare le risorse Appunto Oddio un lupo Oddio un lupo Oddio un lupo Aiuto Aiuto Signori di prima Signori di prima Un lupo Un lupo Un lupo Cazzo Credo che sia troppo forte per me questo lupo Vorrei rifugiarmi dentro casa Ma ho paura Mi stai seguendo ancora? No Si Porca puttana Che grosso Oh ma Vai via Porca puttana Cazzo di lupo Di merda Ma che ci ho fatto io? Io stavo passando Volevo la renna Non un lupo Ah Senti come abbaia Vaffan cuore Vaffan cuore Lupo Madonna del lupo Sto andando via da casa mia Oddio E se noi provassimo ad attaccarlo? Vieni qua Oddio quanto fa male Oddio fa male Oddio fa male Mi ammazza Ho ammazzato il lupo Sto sanguinando Due due Sto cercando di curarmi ma Ah ok Mi sono curato Mi sono curato Sì ma addio cristo Mi sono fatto malissimo Ok ok Non è un problema Rubiamo la roba dal lupo Bastardo Lupo di merda Bastardo Lupo di merda Lupo di merda Lupo di merda Lupo di merda Guarda quante risorse Lupo di merda Bastardo Brutto lui Dammi tutto Yeee Oh oh Ho perso la strada di casa Oh merda Da qua mi pare No Mi pare che fosse di qua Oh merda Vedo bruttissimo Ah Ah Sto soffrendo tanto Dov'è casa? Eccola Credo E' questa casa mia no? Cioè non è casa mia mia Però vabbè È casa di quel tizio Che ora è mia Ehm Dai Fammi accedere a casa mia Yeee Chiudi Ah Ehm Vorrei accenderlo Non con tutto però il legno Con parte Split Solo parte del legno Un po' di legno Lo voglio ottenere per me Non si sa mai Potrebbe servire in futuro Allora Accendiamo Ora dovrei sentirmi a mio agio E recuperare vita Sì Infatti Oh mio dio Che cosa è stato? Ho sentito un suono Niente Vabbè Split Wow Ok Ce la siamo cavata relativamente bene Il lupo è morto Ok Mi piace Mi piace Allora Ehm Passo successivo Ci serve Una Un letto Ora Vediamo un po' Se riesco a trovarlo Dovrebbe chiamarsi qualcosa tipo Sleep bag Sacco a pelo Qualcosa del genere Ehm Sleeping bag Eccolo la Ok Possiamo crearlo Eccolo la Anche questa volta Ce l'ha dato istantaneamente Nel Nell'inventario Non so perché Quindi Vediamo un po' Dove metterlo Ecco qua Wow Bello Cioè oddio Bello non tanto però Posso raccoglierlo? Ok Si L'ho potuto raccogliere Non è una cosa tanto utile Credo che un letto Sia fatto per star fermo Più che altro Posso adoperarlo Oppure mi da Qualche bonus Questo fatto Non l'ho ancora capito Ragazzi Se qualcuno di voi sa Se il letto ha un utilizzo particolare Credo che Serva per far dormire il personaggio Perché so Che il personaggio Non Ehm Non esce dal gioco Quando noi usciamo dal gioco Rimane in partita Appunto Può essere ucciso Paradossalmente Da qualcuno che ci incontra Così Ehm Quindi Forse se hai il letto Riesce a A riposare A dormire Non ne ho idea Questo fatto ragazzi Non ve lo so dire purtroppo Ora voglio creare però Un'altra cosa Ehm Se ci sta dentro la mia catapecchia Credo Di sì Di potercela far stare Ah Voglio creare Una Ehm Una cassa Eccola qua La cassa richiede 30 di legno Noi abbiamo soltanto 10 Quindi Fammi chiedere Chiudere va Che non si sa mai Arriva qualche bastardo Mi ruba tutto E raccolgo un po' di legname Ehm Potreste chiedervi Se è sempre così lento Raccogliere le risorse No Io adesso sto raccogliendo legno Da un albero Però Si può raccogliere anche Il legname Da un Da un'ipotetica Catasta di legno Che si trova sparsa In giro a volte Per la Per il paesaggio Ecco Se riusciamo a trovare Una di quelle Si fa molto prima A raccogliere il legno Perché invece che darti Un pezzo di legno Per volta Te ne da 7 5 Quindi Si fa molto prima Purtroppo io in questo caso Non ce l'ho E mi devo arrangiare Vediamo un po' Quanto ne ho Ora 36 Ok Lo posso fare Craft Eccolo là Ce l'abbiamo Ne prendo qualche altro pezzo Non si sa mai Fa culo Ok Ok Vorrei crearmi Mi piacerebbe crearmi Un'arma Un po' più Sapete Un po' più affidabile Di questa accetta del cazzo Allora Fammi dare un'occhiata Dunque Cosa devo fare Ah già La cassa La cassa La cassa Eccola qua La cassa Ce la mettiamo qui E la piazziamo Vediamo un po' Dove Dove La possiamo Possiamo Mettere qui Ci sta Oddio Non mi sembra Che ci stia proprio bene Però Eh vedi Mi dice che non posso Perché non ci sta Qui Oddio Dai Fammela mettere Non so dove Oh L'ho messa Sento rumore Oh oh C'è un tizio Che mi sta picchiando La casa Oh mio dio Ho paura Oddio Ho una paura Ho una paura Funtuta Oh merda Is occupied Go away Ho detto che è occupato Vaffanculo Togliti dai coglioni Oh merda Credo che mi vogliano Buttar giù casa Ragazzi È possibile Buttar giù casa È possibile È possibilissimo E quindi io Io non esco Io non esco No 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 Io non esco Ma non esiste Proprio che io esca È ancora lì Te ne vuoi andare Cazzo Oh merda Che cazzo faccio Ragazzi Cosa facciamo Senti un po' Come picchia Oddio E se io tipo Esco E lo prendo Ad accettate Ci proviamo Erano due Bastardi Vaffanculo Oh Mi hanno ammazzato Erano dei Bastardi Dei veri E propri Bastardi Beh così Direi ragazzi Purtroppo Si conclude La nostra Prima avventura Sur rust Con due figli Di puttana Che ci hanno ammazzato Grande sacchi Di merda E mi hanno anche Buttato giù Casa Credo Alla fine Prima o poi L'avranno fatto Beh In ogni caso Fatemi sapere nei commenti Un po' Che cosa ne pensate Io per ora Comunque vi auguro Una buona giornata La prossima volta Mi auguro di riuscire A provarci insieme A qualcun altro Anzi Iniziamo a respawnare Va Oh Sono respawnato Sono respawnato A casa mia Mi stanno Mi stanno spawn Mi stanno spawn killando Mi hanno spawn killato Vero Già Vabbè In ogni caso In ogni caso Vi auguro Una buona giornata Se la giornata di oggi Dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Guardate quello domani Lion Out Iscriviti al nostro canale